Moby Dick è nato dall'esigenza di costruire un progetto che possa essere in qualche modo l'ultimo, la fine. Noi con questo spettacolo portiamo in piazza una nave. Cioè dobbiamo progettare una cosa che sia straordinaria, che dimensioni stiamo pensando e lui mi disse come una balena. Per quanto lo si potesse immaginare, pianificare, poi sul campo ci si è trovati a ricalibrare idee e progettualità. Era talmente ambizioso che era quasi, pensavo che fosse addirittura realizzabile da un certo punto di vista. Gli attori tendono a recitare le operazioni, in questo caso invece tu le devi incarnare. Subito siamo tutti trovati davanti a un mostro. Sembrava che tutte le tempeste del romanzo si realizzassero anche durante le prove. Era come se lo spirito del Moby Dick si fosse riflesso nel progetto stesso. Grazie. 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 Grazie.